D'accordo su quello che hai detto all'inizio che la Juve in Italia è nettamente la più forte, mentre a livello europeo cosa manca ancora per essere competitiva con Barcellona, Real Madrid, Bayern e le inglesi? No, manca la qualità, se parliamo di campionato italiano praticamente possiamo essere... Ma manca la qualità dove? Ma praticamente anche davanti, perché qui i generatori di qualità eccellenza possono essere considerati Buffon, può essere considerato Chiellini come difensore, perché Chiellini non ha il colpo dell'architetto, ha il colpo del muratore, ma ha il colpo che serve al difensore, ovviamente quindi è un punto di forza della Juventus, però dall'altra parte scusami darle e dirlo per un certo verso, fino a quando rende, fino a quando ha fiato, può essere considerata sicuramente una squadra che al di sotto sia del Real Madrid, sia del Bayern Monaco, sia del Barcellona, su questo non c'è dubbio. Farà una buona Coppa dei Campioni sicuramente come fece l'anno passato, ma no, da aspettarsi che possa vincere la Coppa dei Campioni da escludere.